ciao a tutti sono francesco da tech is made andiamo a vedere la recensione completa di questo smartwatch molto completo celly va benissimo e costa poco siamo qui con lo smartphone di celly il trainer round il smartwatch della linea trainer appunto di celly che debutta sul mercato con un dispositivo veramente eccellente costa 59 euro e 90 ha un grande display da 1,69 pollici e tante funzionalità veramente da da dispositivo non da questa fascia per esempio al gps che già non tanti hanno in questa fascia di prezzo nella scatola come al solito è molto piccola non c'è in pratica niente se non il caricabatterie che di tipo magnetico vi faccio vedere come va quindi questo si appoggia così e lo ricaricate ammestamente con una classica presa usb poi qui dentro ci sono i classici manualetti e null'altro quindi veramente molto minimal anche perché non ci può essere nient'altro qui ci sono i classici cinturini da 22 mm che si trovano tranquillamente in commercio e hanno questo aggancio quasi a baionetta quindi si sfila abbastanza facilmente con una piccola pressione qui sul lato vedete viene via viene via il cinturino adesso vado a rimettere a posto vedete viene via poi dovete incastrarlo per bene per bene se ce la fate a primo colpo come ho fatto io e l'avete niente non ce la faccio sganciare agganciarlo per bene dovete centrare il buco da una parte e dall'altra ecco qua ce l'ho fatta niente ci ho messo qualche secondo in più però ce l'ho fatta questo abbiamo visto che qui il cinturino in silicone abbastanza rigido e l'ho usato per diverse settimane molto solido al tatto qui la corona in alluminio è molto molto resistente l'ho utilizzato anche in bicicletta per monitorare i miei allenamenti e come vedete è in perfetto stato estetico non c'è nessun ammaccatura o altro c'è l'unico pulsante laterale che serve per accendere e spegnere il display come vedete però lui si accende anche con il movimento è molto molto resistente sono molto contento per questo il design è un total black che le dona li dona un tocco un po' sportivo però allo stesso tempo un pochettino elegantino e comunque il design abbastanza sottile da portarlo dietro anche sotto un abito il grande display da 1,7 pollici si legge veramente bene sotto ogni punto di vista e poi è possibile anche andare a gestire la luminosità io ce l'ho sempre avuto a manetta ragazzi quindi vi posso dire che la batteria visto che siamo in tema è veramente ottimo sono rimasto veramente contento l'ho usato per una settimana continuati in maniera continuativa e mi ha soddisfatto l'applicazione si chiama da fit ed è disponibile per android e ios e vi permette di gestire tutto quello che è l'integrazione con questo dispositivo dove potete andare a gestire le notifiche a vedere tutti gli allenamenti si integra con google fit ed altri sistema di allenamento in modo da scaricare i dati che prende questo dispositivo con le applicazioni di fitness e come vedete facendo uno swipe verso l'alto si vede la le notifiche invece dall'alto verso il basso vedete che potete andare a gestire la luminosità eccetera le impostazioni qua attivare o disattivare la la vibrazione ed altre concine con uno scorrimento invece uno swipe verso sinistra andata a vedere mentre adesso è mezzanotte quindi io non ho fatto nessun passo per cui vedete i passi l'attività il battito e eventualmente avviare manualmente l'esercizio c'è anche il misuratore dell'ossigeno che andiamo subito a vedere come come funziona ed ovviamente semplicemente andando a posizionarsi sulla funzionalità è vedete si attiva e io vado a fare la misurazione ci mette veramente pochi secondi per effettuare la misurazione vedete 99 per cento e direi che va stra bene misura anche i battiti anche qui è abbastanza preciso sebbene non rispetto a dispositivi del genere l'ho trovato un po meno preciso tendenzialmente va a misurare qualche battito in meno parliamo sempre di 12345 battiti in meno quindi niente di particolarmente eccellente un dispositivo che costa 60 euro ed offre già una marea di funzioni oltre alle tante funzioni disponibili qui c'è una grafica stile apple che si mi piace ed è fatta veramente bene potete andare adesso non ho collegato il dispositivo con cui utilizzavo di solito quindi non si è collegato al dispositivo però di solito va a scaricare i dati del meteo può avviare un timer e fare anche quello di scattare le foto da remoto questa è una funzionalità molto comoda che ho utilizzato diverse volte integra ovviamente il riconoscimento degli sport in automatico e poi potrete comunque attivarli direttamente da qui andando sempre nella funzionalità della home con tutto questo queste belle funzionalità queste icone che si muovono proprio come gli apple watch potrete comandare ovviamente anche il player musicale classico e poi come vi dicevo con uno swipe verso l'altro potete leggere tutti i messaggi adesso sono andato a cancellare tutte le notifiche giusto per farvi vedere come vi arrivano sullo schermo potete anche rispondere dal cellulare però dovete dallo smartwatch però dovete parlare sul telefono l'unica cosa che ho notato è che non mi è piaciuta è il gps che a volte sballa un pochettino però per il resto è un ottimo dispositivo soprattutto ero in bicicletta mi ha segnato che ero completamente da un'altra parte ma tipo 300 400 metri più lontano anziché sulla strada che stavo percorrendo ero completamente in tangenziale va bene è successo un paio di volte ma niente di che poi si è sincronizzato in maniera corretta probabilmente scaricando le mappe dal e la posizione dal gps presente sullo smartphone che dire un dispositivo ben equilibrato 60 euro non sono tatti non si trova neanche in offerta non è nuovissimo uscito verso agosto settembre dello scorso anno però sul mercato è arrivato verso natale come vi dicevo caricando la batteria ci mettete all'incirca un paio d'orette da arrivare da 0 a 100 e ho notato che con una carica completa all'incirca sui sei giorni sei giorni se avete invece se utilizzate il gps ovviamente questa cala drasticamente perché con il gps attivo arriviamo a 23 ore di utilizzo continuo quindi un allenamento completo comunque riuscite a farlo altre cose che ho notato e nel software un po la la traduzione non c'è l'italiano e poi alcune funzionalità questo che non ho capito che cosa vado a fare perché semplicemente doveva silenziare completamente le suonerie ma invece non è stato così perché lui è andato a il cellulare comunque squillava e non ho ben capito la lingua l'italiano non c'è il menu in inglese però non è neanche tradotto in maniera eccellente quindi questi sono i due aspetti negativi un po il gps che fa quello che vuole all'incirca e il e la traduzione del software per il resto un dispositivo molto interessante a livello di solidità una buona autonomia l'applicazione mi piace tanto è ben fatta e il grande schermo da 1,69 pollici si legge bene anche sotto il sole e anche se alcune volte il movimento così per accenderlo come vedete un po lento però dopo un po ci si fa l'abitudine e si aspetta qualche secondo posso far altro che consigliarvi l'acquisto di questo smartwatch per iniziare ad avvicinarvi al mondo degli smartwatch anche sportivi però con un tocco di eleganza un saluto a tutti a francesco odio tech is made